È stato sottoscritto il contratto per la realizzazione del manto sintetico e della sostituzione dell'illuminazione del campo sportivo Gigi Meroni in via Acquanera ad Albate, quartiere di Como. Lunedì 23 ottobre è previsto l'incontro con la direzione dei lavori prima della partenza effettiva del cantiere. Nei mesi scorsi, in comune a Como erano arrivate 45 offerte di aziende interessate, il primo lotto dei lavori previsti da Palazzo Cernezzi comprende appunto il rifacimento del campo da calcio e delle torri con i fari per l'illuminazione del terreno di gioco. Restando in ambito sportivo, nei giorni scorsi l'amministrazione aveva fatto il punto su alcuni interventi. A novembre scatteranno le prime demolizioni al campo Colni, mentre entro la fine di novembre si dovrebbe tornare a poter utilizzare gli spazi della palestra di via Giulini in città. In via Cuzzi a Rebbio si portano avanti, insieme con la società sportiva a Rebbio, due progetti separati, adeguamenti edili e idraulici da una parte e impianto elettrico ed illuminazione dall'altra. Sul fronte piscina di via Sinigaglia, Palazzo Cernezzi aveva ipotizzato la fine di novembre per la conclusione dei lavori, ma il rischio è che la riapertura possa slittare. La causa? Interventi più lunghi del previsto per l'eccessivo materiale da asportare e le dimensioni delle tessere che compongono il mosaico della vasca.